Nel 2018 la produzione industriale è aumentata dell'1,2%, in Italia più 1,8%, con una crescita costante fino all'estate ma in contrazione e in chiusura d'anno. Variazioni positive sono state registrate in tutti i settori, fatta eccezione per le calzature. E la fotografia del rapporto 2018 sull'industria marchigiana, cura del centro studi di Confindustria Marche, in collaborazione con UbiBanca. Una regione che continua ad andare avanti ma con un forte rallentamento, cioè siamo partiti bene nei primi mesi dell'anno e dall'estate in poi ci siamo fermati e abbiamo fatto un più 1,6%. Quindi siamo in crescita ma non in linea con quelle che sono le crescite in generale dell'Italia. L'attività commerciale documenta una crescita robusta nel corso dei primi sei mesi dell'anno che si è andata affievolendo in chiusura d'anno. Le vendite interne sono aumentate dello 0,7%, le vendite all'estero sono cresciute del 2,9% con consistente slancio del legno e del mobile. Ma l'export è in contrazione dello 0,9% rispetto al 2017, influenzato dalla performance del settore farmaceutico. Meglio le esportazioni verso Germania e Francia che nei paesi extra-UE stazionari e le vendite in Cina. L'Europa si conferma insomma un mercato molto attraente per le imprese di casa nostra con possibilità calcolate di incremento tra il 20 e l'80%. Mentre per i mercati extra-Europa si rivedrebbero scatto in termini di organizzazione commerciale. Abbiamo considerato alcuni settori, dalle calzature in pelle agli stampi, alle macchine agricole piuttosto che alle cucine in legno. Abbiamo cercato di vedere quale fosse e quanto fosse rilevante il peso del mercato potenziale in questi settori in giro per il mondo rispetto all'attuale livello di export. Mettere in piedi una rete commerciale per poter permettere alle nostre aziende di andare all'estero e quindi innescare un processo di internazionalizzazione della propria azienda che non è una cosa così semplice, richiede tempi lunghi, richiede finanza, richiede tutta una serie di attività. Però queste sono le strade da intraprendere per poter reiniziare a crescere e seguire la motiva d'Italia che sono il Veneto piuttosto che la Lombardia o piuttosto che l'Emilia Romagna. La situazione del mercato del lavoro nelle Marche è risultata in linea con quella italiana, occupati in crescita e tasso di disoccupazione che scende inferiore alla media italiana. In crescita gli investimenti, secondo le previsioni degli operatori, il livello dell'attività economica continuerà a recuperare anche nel 2019, grazie in particolare al contributo favorevole della domanda estera.